L'Efficital Solutions sono un'unione di piattaforme fisiche e digitali. La piattaforma fisica per lo snack and food è la famiglia Flessi. La famiglia Flessi ha tre modelli, Flessi XL, Flessi L e Flessi M, il più piccolo della gamma. Flessi offre un'ampia capacità e una grande flessibilità nel configurarla. Si possono avere infatti fino a 7 cassetti e 10 spirali nella versione XL Master, oltre alla possibilità di aggiungere una doppia colonna per lattine e bottiglie refrigerata. Un'ampia area personalizzabile e finiture estetiche di pregio danno a Flessi un'estetica accattivante. Inoltre il display 7 pollici e il percorso LED luminoso per l'utente danno un'esperienza convolgente. Flessi offre la miglior visibilità grazie all'ampia vetrina e all'illuminazione selettiva dei prodotti di ogni cassetto. Flessi è molto performante dal punto di vista energetico grazie a un'ottima coibentazione della cella e all'utilizzo di gas R290 nel gruppo frigorifero. Inoltre è molto facile gestire l'altezza della zona food semplicemente spostando il cassetto a cui è solidale il deflettore dell'aria. Flessi, la FIGITAL SOLUTION per offrire ai tuoi clienti un spettacolo in vetrina. Unisciti alla rivoluzione FIGITAL Rejoigne la rivoluzione FIGITAL La rivoluzione FIGITAL